salve a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi abbiamo il vangelo di matteo come vedete a schermo 23 1 12 e andiamo a leggerlo velocemente che cosa succede c'è sempre il gesù che parla alla folla e ai discepoli e dice in pratica ci sono sulla catena di mosè scrivi e farisei e gesù dice praticate e osservate ok tutto ciò che vi dicono ma non agite secondo le loro opere perché essi dicono ma non fanno poi continua dicendo che in pratica danno un sacco di robe da fare o suggerimenti o dicono alla gente che dovrebbero fare delle cose delle azioni difficili pesanti restrittive ma loro non fanno niente e tutto quello che fanno lo fanno per essere ammirati dalla gente per avere i posti d'onore per essere chiamati rabbì per essere salutati ammirati insomma così però dice gesù voi non fatevi chiamare rabbì perché uno solo il vostro maestro e voi siete tutti fratelli non chiamate padre nessuno perché c'è un solo padre non fatevi chiamare guide e qui ci torniamo tra un minuto chi tra voi è più grande sarà vostro servo chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato riassunto della puntata di oggi trasposta ai giorni nostri non tiratevela e direi attualissima nel mondo del 2023 dove tutto è like instagram facebook e la gente impazzisce per avere la l'ammirazione degli altri questo vangelo credo sia più attuale di quello che pensiamo adesso non c'è più il rabbi non c'è più la guida la guida adesso è il guru no chi è il rabbi il rabbi magari adesso è l'influencer se ci pensate cambiate questi termini ottenete un ragionamento che fila chi sono questi personaggi che vediamo online a caccia di like che postano le foto della lamborghini che postano la foto della villa che postano la foto che loro sono a dubai o non so dove perché fanno sta roba magari vi vendono corsi per imparare a fare qualcosa mentre loro non guadagnano con quello è un po questo discorso no vi danno un sacco di robe vi dicono ma dovete fare questo dovete seguire il metodo sarà fatica dovete impegnarvi ma loro magari non lo usano questi concetti secondo me sono importantissimi al giorno d'oggi proprio perché con nomi diversi la stessa cosa si ripete proprio perché gesù ci mette in guardia dal non cadere nel tranello di voler diventare come questi non andiamo a vedere a quello che la gente dice ma quello che fanno numero uno e numero due stiamo attenti a non voler diventare come loro non volerci far chiamare rabbi cioè non non cadiamo nella trappola anche noi dell'emulazione dei like di quelle robe lì ma andiamo a vedere che cosa è importante ovvio che è molto più semplice dire sì se avessi anche io un sacco di like vedete sto canale faccio sti video ma li guardano una ventina di persone attualmente uno direbbe ma che che video fai ma fa altro che guadagni iscritti che poi che poi guadagni che poi ai follower che poi ti mettono i like ma chi se ne frega proprio perché l'importante non è l'apparire ma è quello che si fa quindi vangelo che secondo me è molto interessante ovviamente anche per il messaggio che dà legato al tempo di quando è stato a cui si riferisce ma anche per la per l'interpretazione che ci possiamo dare al giorno d'oggi con il fenomeno dei social e tutte queste robe penso che sia un modo interessante di di vedere le cose di capire cose veramente importante ecco questo è la mia il mio commento spero l'abbiate trovato interessante come sempre fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se volete commentare se il video vi è piaciuto fatelo girare ancora ve lo ripeto non è per i like non mi interessa niente ma è più che altro perché penso che questi messaggi al giorno d'oggi siano importanti perché mi pare che la società stia prendendo una deriva non troppo simpatica e che ci stiamo allontanando dai valori che forse in passato erano più genuini con questo vi saluto vi auguro una buona domenica una buona settimana e noi come sempre ci vediamo alla prossima al prossimo commento del vangelo la prossima settimana ciao ciao